Con la condivisione di idee Con la cooperazione, con il senso di insieme possiamo migliorarci Avevo una percezione della comunità molto più superficiale E ora è parte di me, posso dire di sentirmi parte di essa Da quando faccio parte della consulta sicuramente la mia vita è cambiata in meglio Gli occhi delle persone, l'entusiasmo è impagabile Un sentimento di condivisione tra tutti noi Con la consulta ho imparato a collaborare assieme agli altri E quindi vedere le cose non solamente dal mio punto di vista ma da un punto di vista collettivo Palmas è un piccolo villaggio ricco di persone buone, genuine Da quando sono parte della consulta mi sento un cittadino più attivo Palmas per me è stato un tuffo della libertà dopo aver vissuto 11 anni a ristano Dove non mi sentivo prendere il libro Palmas è stato appunto come immergermi nella libertà La consulta può fare, diventare un piccolo paese, qualcosa di più di un piccolo paese È tutto di gioia Palmas per me è casa, cioè un posto dove in qualche momento io in giri posso trovare una faccia amica La comunità per me è per la domanda La comunità per me è stata un'ottima La comunità per me è stata un'ottima